E non di rado il contagio avviene proprio sul posto di lavoro e a pagare il prezzo più alto nelle marche sono soprattutto le donne. Il contagio occorre pure sul posto di lavoro e le più colpite nelle marche sono le donne. Su tre lavoratori infetti, infatti, due sono proprio donne, quasi il 70% degli oltre 1.600 dipendenti contagiati tra la fine di gennaio e il 31 ottobre. Lo dicono i numeri neri degli infortuni denunciati, snocciolati dall'Inail e diffusi dalla CGL Marche. E il settore più colpito è la sanità. A pagare il prezzo più alto in termini di contagio sono infatti infermieri, medici, operatori sociosanitari ed operatori socioassistenziali al lavoro nelle corsie di ospedali, case di cura e di riposo. Non a caso sono più di 600 gli operatori sanitari attualmente in isolamento domiciliare. Nella top ten dei settori più a rischio poi le amministrazioni pubbliche, le attività di trasporto e magazzinaggio, i servizi di pulizia e vigilanza e le attività manifatturiere. Nella mappa del contagio sul lavoro, invece, la maglia nera va alla provincia di Pesaro con il 36,2% dei casi e a quella di Ancona con il 31,6%, seguita da Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno. Se di Covid e poi sul lavoro si ammalano più le donne, a morire sono soprattutto gli uomini, 12 decessi registrati nel 2020 nelle Marche, il 3,6% del totale in Italia.